Salve a tutti e benvenuti da Tecnonize. Quello che vedete qui è un semplice impianto citofonico, questo è lo schema, dove in qualsiasi impianto citofonico ha un alimentatore, l'unità interna, l'unità esterna e l'elettroseratura per aprire il cancello dall'interno dell'appartamento. Qui abbiamo la suoneria e la fonia per parlare con l'esterno. In questo video vedremo in modo semplice per aggiornare il nostro citofono e renderlo smart. Questa modifica ci permetterà oltre di comandare con il nostro telefono il cancello esterno a distanza in qualsiasi posto noi ci troviamo e in più di avere anche la comunicazione, quindi potremmo anche parlare a distanza e avere anche il video, sempre con la stessa applicazione, un po' come la Ring. È una modifica che non ci porterà via tanti soldi, ci dovremo procurare questo qui, questo qui è praticamente un campanello smart con il video, questo modulo che è studiato a posto per aprire le porte e in più potremmo collegare sul cancelletto magnetico come questo per capire lo stato del nostro cancello se è chiuso o aperto e in più potremmo avere anche questa suoneria supplementare da mettere all'interno dell'appartamento che si abbina con questo campanello smart. Quello che faremo adesso è adattare questo alla pulsantiera, quindi potremo cercare di integrare la telecamera all'interno applicando dei fori, ora vediamo comunque l'ingombro di questo dispositivo abbastanza compatto, ora che facciamo lo apriamo e vediamo come è realizzato, andiamo, vediamo se si apre e c'è anche lo speaker, facciamo attenzione ed ecco qui come è fatta la scheda, c'è una batteria da 800 mAh, è ricaricabile ma possiamo anche portarli se abbiamo la possibilità la 5V, possiamo anche utilizzare l'alimentazione che già arriva al nostro microfono utilizzando queste schede per adattarla alla 5V, quando noi premiamo il pulsante di chiamata dovrà arrivarmi anche la chiamata sul nostro cellulare, come notate comunque è compatta la scheda potremmo adattarla tranquillamente all'interno della pulsantiera. Di adattare la telecamera, il microfono e lo speaker all'interno. Un'altra modifica che andremo a fare è quella di saldare due fili qui sul pulsante, appunto quando noi andremo a premere il pulsante della pulsantiera dovrà contemporaneamente anche attivarmi la chiamata sull'applicazione. Stacchiamo la batteria momentaneamente col connettore, quindi sarà fatta la sostituzione della batteria. Allora verifichiamo con un multimetro, quindi a noi ci serviranno questi due. Dovremo saldare quindi due fili qui, uno qui e uno qui. Andiamo a saldarli ed ecco qui, dati due fili, vediamo se funziona. Possiamo anche utilizzare questo, in questo modo. Ok, ora prendiamo il nostro smartphone, dal Play Store ci scarichiamo Tuya Smart. Facciamo più positivo ed ecco qui. Li diciamo a quale rete wifi si deve connettere e attendiamo l'accoppiamento. Citofono Video Smart. Ora vediamo che succede quando premiamo questo pulsante. Connessione in corso, parliamo. Prova, prova. Mi sono allontanato perché c'era un po' di risonanza. Però come notate funziona bene. Ok, abbiamo fatto la nostra chiamata, quindi funziona tutto. Mentre questo è per aprire, abbiamo detto, il cancello a distanza. Quindi con la stessa applicazione. Ora ritorniamo al nostro citofono. Ora quello che dovremmo fare è recuperare, almeno per quanto riguarda questo kit della Elvox, dovremmo recuperare il segnale che viene dal pulsante. Allora, il pulsante, che poi sarebbe questa l'uscita, che è l'uscita a 12 volt. Vediamo qui cosa trovo quando premiamo il pulsante, un 13 volt in alternata. Perciò abbiamo una 12 in alternata proveniente quindi dalla chiamata. Adesso mi sono realizzato una scritta come questa, relè, dove arriva la 12 volt in alternata e viene raddrizzata. Quindi con lo relè come questo, vediamo, facciamo un collegamento. Allora, qui arriverà la 12 in alternata e 2. Questo mi dà praticamente la possibilità di avere un contatto pulito. Non posso collegarlo direttamente sul pulsante. Se no, diciamo, creere i danni alla scheda. Qui praticamente dobbiamo comunque comandare la chiusura di un pulsante. Mi collego un cavo qui e un cavo qui. Questa scheda è dotata di un led, quindi possiamo capire se effettivamente il relè sta chiudendo. Vediamo cosa succede. Funziona. Vedete? Ok, perfetto. Quindi colleghiamo il comune, quindi il com, e l'altro cavo sul normalmente aperto della scheda. Quindi proviamo a premere, vediamo cosa succede. Io prendo lo smartphone e vediamo cosa succede quando premo. Dove è partita la chiamata da un po'. Ecco qua. Rispondo. E c'è anche il video. Mi allontano. Ciao ragazzi. Quindi tutto sta funzionando come deve. Chiudo la chiamata. Ok, e quindi ha funzionato. Ora, come notate, è stato semplice. Vi lascerò lo schema per realizzare questa piccola scheda. E niente, ora dobbiamo solo prendere il nostro modulo che ci permetterà di comandare l'elettroseratura. Questo dispositivo funziona a 220, quindi possiamo alimentarlo a 220. Possiamo prenderlo anche dal centralino. Non è un problema. Ora mi realizzo un pulsante locale sul posto, vicino al cancello, visto che non c'è. Dal centralino mi prendo lo 0. Dal centralino, quindi mi prendo lo 0 dall'alimentatore o dalla derivazione. Quindi mi collego lo 0, che arriverà poi al pulsante vicino al cancello, in prossima unità. E l'altro me lo collego qui. E ora abbiamo anche la possibilità di comandare il cancello direttamente. Loco. Ora, di qua, mi devo prendere un altro due fili. Qui, su L1 e L2, il contatto comandato da questo relè. Anche qui parliamo di un contatto pulito. Allora, qui possiamo scegliere il tipo di collegamento. Quindi io quello che farò è andare direttamente a prendere il parallelo. Quindi 1, 2. Quindi possiamo tranquillamente comandare sempre da locale. Quindi prendiamo poi il contatto magnetico, compreso nel kit. 1 e 2. Quindi con questo sapremo lo stato. Questi vanno posizionati in questo modo, per associare all'applicazione Tuya questo dispositivo. Apri cancello, si associa anche a un assistente vocale. Quindi con l'assistente vocale poi potete creare degli scenari simpatici per aprire e gestire appunto questi sistemi smart direttamente dall'assistente vocale. Allora, qua risulta chiuso. Se io lo sposto, risulta aperto. Vedete quanto è carina sta cosa? A livello grafico, insomma, vedete, c'è il cancello aperto e il cancello chiuso. L'immagine è di una serranda, però, si capisce bene quando è chiuso o quando è aperto. Quindi posso aprire tranquillamente il cancello a distanza e quindi si aprirà. Poi il tempo che si chiude. Facciamo una simulazione. Ovviamente possiamo anche continuare a rispondere dall'apparecchio. Stanno chiamando, rispondiamo. Sì, pronto? Sì, pronto, pronto. Sì, sì, e ti apro subito il portone. Chiudiamo. E li apriamo il portone. Abbiamo aggiornato in qualche modo il nostro vecchio citofono. Potrò sempre continuare ad aprire da qui e da qui. Tranquillamente. Questa è una soluzione economica per aggiornare il nostro vecchio citofono. Ancora funzionante, perché no? E perché sostituirlo? Con questo dispositivo possiamo tenerlo aggiornato e possiamo, come avete visto, avere questa telegestione su in chiamata, sia in videochiamata che con l'afonia e il comando per il nostro cancello. Qui abbiamo quattro ledri infrarossi. E quindi se riuscite anche a integrare i quattro led infrarossi, avete anche la visione notturna nelle ore serali. Questa è un'altra che va detta, insomma. Vi lascerò comunque giù il link in descrizione. Spero che questo video sia stato utile. Grazie da Tecronice. Grazie. Grazie. Grazie.